Io mi emoziono! Ciao, sono Iana, vengo dall'Italia, da Roma, e sono venuta a Clinica Kate per sottopormi a un intervento di mastoplastica additiva e rinocetoplastica. Ho conosciuto la Clinica Kate tramite i social, ho visto tantissime recensioni positive. Oggi sono passati 9 giorni dal mio intervento. Oggi ho fatto la medicazione al seno, ho fatto anche la rimozione del supporto. La cosa più fondamentale è che hai la garanzia a vita degli interventi che hai fatto. Ringrazio tutto lo staff e tutta la Clinica Kate per aver realizzato il mio sogno della mastoplastica. Oh, non ce la faccio! Non ce la faccio!